Grazie, Kratos. Il nostro viaggio è tutt'altro che finito, Pantola. Giunti al termine, non vorrai più ringraziarmi. So di sembrarlo, ma non sono una bambina, Kratos. Ho visto molte cose orribili. E non ho paura. So benissimo cosa ci aspetta. Ho visto Zeus torturare mio padre. L'ho visto soccorrere col bambino. Avrei dovuto aiutarlo, ma avevo paura. Efesto ha fatto il suo dovere di padre. Proteggere sua figlia. No, è solo colpa mia. L'ho perduto per colpa della paura. La paura è una sorta di oscurità. E in quell'oscurità ho udito gli dèi parlare di me. Mi chiamavano un mostro. Le parole non hanno valore. Forse. Ma nelle loro parole c'era paura. Paura di un guerriero cinereo. Paura di te. Mentre in loro la paura cresceva, in me faceva posto alla speranza. La speranza è dei deboli, Pandora. È la speranza che ci dà forza. Che ci fa lottare. È la sola cosa che ci resta quando tutto è perduto. A questo porta la speranza, bambina. Faresti bene a capirlo. La speranza è di assicurità. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti